Disagi questa mattina nella nuova sede dell'Inps. Gli utenti che si sono recati presso gli uffici hanno trovato le porte chiuse. Una ventina di persone sono rimaste in attesa per alcune ore, senza poter entrare, senza sapere la motivazione. È iniziata così la protesta. Sono dovuti intervenire per calmare la situazione i carabinieri chiamati dagli stessi cittadini. Successivamente è stato poi confermato dal centralino d'Imperia dell'Agenzia di Vigilanza che in mattinata è scattato uno sciopero degli agenti indetto dalle organizzazioni sindacali per chiedere maggiore rispetto per le esigenze della categoria ed alcune innovazioni nel contratto nazionale. Gli uffici quindi sono rimasti chiusi per qualche ora e il disagio e ancora di più le polemiche per il disguido si sono fatti sentire. Quindi inattuabile aprire gli sportelli senza la presenza di una guardia giurata. Impossibilitati a compiere le proprie mansioni senza un agente in servizio. Quindi infine da Imperia è stato inviato un vigilantes precettato dalla ditta per provvedere al problema. Quindi grazie alla buona volontà dei dipendenti alle 10.30 le porte si sono aperte in attesa dell'arrivo delle vigilantes.